E' chiamata operazione D'Artagnan, viene definita associazione a delinquere finalizzata alla truffa e danni dello Stato. In sostanza il porto di Molfetta è stato sigillato, due arrestati, 62 indagati. Quale è la sua replica? Lei risulta tra gli indagati? Dei fatti penali, diciamo io, sono pronto a chiarire tutto alla magistratura. Mi auguro soltanto che mi interroghino presto, così forse potrei dare un utile chiarimento alle questioni che dicono. Per il resto faccio dell'onestà personale adamantina una cifra della mia vita e sono pronto a chiarirla a tutti. Tra quello che viene indagato, c'è scritto che dei 150 milioni che sarebbero stati truffati a danni dello Stato, ce ne sarebbero alcuni utilizzati per rispettare il patto di stabilità. Non è vero.